e se si apre non funziona se non si apre ci dobbiamo mettere un po' meglio all'altro ci si buce che c'è su? no, non c'è, c'è di troppo non c'è mai che non c'è scendere è buono qua non c'è nemmeno una qua un'altra là un'altra è un'altra la maggiore ma non c'è ci vuole guardate, gli è venuto da sopra aspetta, non c'è non c'è, non c'è vieni a non dare ancora caccio su cosa visto che è un vemole e c'è una parte qua è praticamente ci sono i gocciolatori ancora caccio sull'arrestare fosse i gocciolatori sono a grado sono a grado i comprati della confraternita il loro pensiero principale è quello della sapoltura questo però è una stanza una stanza di decantazione quindi qua si mettono in una orizzontale sono a grado che poi da sotto praticamente poi tutti i liquidi si scuomano da sotto c'è solo un pezzo di ossa guarda, caccio è un urofeno guarda è stato quello non c'erebbe una benedizione qua veramente caccio un uro e c'è perciò qualche scarico qualche cosa questa è la parte più antica della chiesa la chiesa è del 1608 giusto la prima costruzione ma lei illumina il tetto si questa è la parte più antica della chiesa secondo me questa era una stanza intermedia della sepoltura intermedia della sepoltura no, non c'è intermedia della sepoltura il canale rosso guarda 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 qui c'è fisso o qualcosa forse si forse si guarda ci sono una calotta grana che c'è questo qua sono ammassati ma là c'è bucatola guarda un canale un canale non ce l'avevi tu? no non ce l'avevi tu? non ce l'avevi tu? ma ce la facciamo vedere tu qua si può aiutare hai trovato il pavimento? si dà aiuto quindi in tutte le criepite c'è il pavimento di marmo? un guatto un guatto un guatto un guatto spero non si sia stata la chiesa la portata buf! Questa è tutta comune, comune grande. Quindi da questa sciola scendevano i corpi? Beh, penso di sì. E' più profondo qua, lo sai? E' più profondo qua, sull'osso va. E la bandicina qua è piena proprio. Io volevo cascavano qua. Ma l'ammassavo non è che poterlo ammassare. E' più profondo. Questo chiede più profondo. E' più profondo qua. E' più profondo qua. E' più profondo qua. Oppure se ne ho già forse. E' più profondo. Per me è pesce la lava. Per me è pesce la lava. Perché si dice che è un pozzone? Perché è un tipo di pesce la lava che è tutta pizze. Questo è pesce la lava che dà la parere della persona. E' più profondo qua. Questo si fa? Questa cosa si fa? Mi fa un mio figlio a 1695. E' più profondo qua. E' più profondo qua. Non ti fa? E' più profondo qua. Questo va con due edizione o con l'ultima. perché l'avvocato saporito non parlava di una stanza triangolare perché stai in corredo io penso ed è come asciugavano gli buttavano dalla voce vediamo l'altro vediamo l'altra data e questa perché è diversa e allora siamo a sorpresa ci passate ora passano la chiesa ma non ci può passare un remeto là è una giscella non ci arrivi di braccia non ci passi non ci passi non ci passi non ci passi ma se ne ci vediamo una sedia così è che ci vuole la scala di campagnolo se tu inquadrarti qua c'è una croce sul muro hai visto già la inquadri no ora non la vedo qua e qua di questo lato ok se vediamo la croce la c'è lo sgocciolatoio come era un cattedrale ora bisogna vedere se chi si era fino a un quarto d'ora fa luce un po' sta solo anche per questo avevo molti no ma se vuoi cenare per un villamino ah perché faccio va bene carrozza io sto scendendo Piero aspetta il caggia sei bruttoso penso che sia meglio piacere la ripresa no no che stai scendendo la prima cosa Piero fammi una foto ci siamo andati a scuola perché c'è tutto il pavimento oh zio niente ci siamo andati a scala Piero fammi una foto con il film si dobbiamo non poterlo dire che non si è chievo un po' perché mi sembra non c'è la sua capacità non c'è niente cosa possono perciò io sono convinto che queste sono le punte di transito picchia a cappella questa è fatta dopo dai chiesa perciò questa dopo penso perciò penso che questa stava puttoso erano all'esterno perché i cadavri ma c'è uno e c'è la puzza c'è la cosa e poi come faccio Giuseppe in casa stai chiamando stai pregiando 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 muro a canneso qua guarda ci deve essere un'altra stanza come questa ah la te la si si lo vede? qua c'è questa questa possibilmente l'hanno fatta per diciamo sostenere ancora meglio il sole che c'è qui sopra sicuramente la faccia che c'è stato qualche problema mi dice facciamoci sta muro tutto qua tutto qua qua è stato aggiustato tutto vedo la stanza è qua c'è la voce si si è vero si si qua come dice l'avvocato Saporita su una del segretario è stato stato trovato il preso indirizzo di Paolo Vesta c'era un pezzo di barra delle iniziali e delle rosse quindi c'era la barra proprio? ma è vero uno dei pezzi di barra io penso che questo dovrebbe essere perché se è vero che volevo essere il governatore della competenza questa è la casa che ho comprato la competenza la competenza prima era 1700 però e qui hai comprato perché c'era la competenza ma guarda qua qua è tutto bucato ma uno ma qua c'è tutto burro si ma l'hanno cosa l'ha? non c'è qua niente ma sono ammassati bene? no sono non ci v'è andato non ci v'è andato non ci v'è andato spero può essere questa prete non c'era ma ma come anche quest'altra ma penso qua va trovando qua c'è chiusa che erano collegate tutti le rabanne qua c'è quest'altra quest'altra stanza in cui è difficile accedere c'è questo foro strano va va quel foro combina con quello eh può essere questo foro si potrebbe essere però quello che andava no no eh non c'è molta direzione però questo è la cappella triangolare non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è 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 ma non c'è